Allora io partirei dal vostro abbandono degli ospedali in Afghanistan, abbandono tra virgolette, cioè dall'allontanamento dall'Afghanistan senza parlare di tutta la faccenda precedente se non mi sembra in questo momento fosse il caso, però insomma vorrei un attimino sapere in quei due mesi d'aprile a maggio quando siete rientrati, perché c'è stato un rientro, come sono stati gestiti gli ospedali e che vuoto avete lasciato, perché mi risulta che non sia stato solo un vuoto di tipo sanitario, ma anche un vuoto di tipo informativo, perché voi riuscite a passarci se non altro delle informazioni anche su quella che è la realtà a proposito delle vittime in quel paese martoriato. Sì, sono d'accordo con questa diagnosi, beh si è cercato di espellere dall'Afghanistan, insomma di costringerci ad andare via, è chiaro che non si può arrestare quando esplicitamente ci si dice che siamo un bersaglio. E' stata una battaglia difficile e dura anche perché quello che come dire ci veniva contestato in fondo, questo è stato anche esplicitato in alcuni momenti, era il fatto che noi curassimo tutti, cioè che curassimo anche il tra virgolette nemico. E noi abbiamo dovuto riaffermare che non solo per emergency, ma anche più semplicemente per un medico non possono esistere nemici. Quando quella persona che si ha di fronte a un paziente, cioè una persona che sta soffrendo, che ha dei bisogni di cura, quello se anche lo era fino un attimo prima non è più un nemico. Il principio è riconosciuto tra l'altro da innumerevoli trattati, documenti solenni, poi regolarmente, come dire, calpestato, ignorato, e siamo in una fase credo di regressione forte socialmente, proprio su questi principi fondanti, una comunità. E quindi ci hanno di fatto costretto a lasciare il Paese, cosa che noi abbiamo vissuto con molta rabbia, con molta delusione, con molta sofferenza, anche con dubbi sulla giustezza della nostra posizione. D'altra parte c'erano dei problemi di sicurezza molto molto seri, sui quali non siamo ovviamente entrati in dettaglio in termini di informazione pubblica, perché non è necessario, ma i nostri pazienti e il nostro personale, sia nazionale che internazionale, erano a serio rischio. Poi abbiamo verificato una straordinaria mobilitazione in Afghanistan, gli afghani si sono mobilitati a modo loro, non lo fanno con i cordei festanti di piazza, lo fanno con delegazioni anche molto seriose, a cui portano gli anziani, con i turbanti e le barbe lunghe, è che però dicevano ma com'è possibile? Com'è possibile lasciare andare via emergency e fare in modo che emergency se ne vada? Perché sono venuti meno gli unici tre veri ospedali del paese, oltre al centro di maternità, il centro di pediatria, i posti di pronto soccorso, insomma, è venuto meno un sistema sanitario. Per esempio tutto quello che c'è di sistema sanitario in Panjshir, ed era comprensibile che le persone reagissero, facessero sentire la loro voce, noi lo speravamo tanto. Il governo afghano non lo voleva, durante tutto il periodo della crisi non è stato detto un rigo sul perché gli ospedali di emergency venivano inizialmente congelati e poi chiusi. Se non avessimo chiuso tutto e abbandonato il paese, gli afghani non avrebbero mai saputo di quello che si stava tramando ai danni di emergency. Quando non l'ho saputo hanno reagito, hanno reagito in un modo secondo me straordinario. Cosa che ci ha consentito di liberare Reqmatullah, che ci ha consentito di riaprire gli ospedali per nostra decisione senza neanche chiedere permesso e senza neanche informare le autorità sanitarie e le autorità del paese. Proprio perché riteniamo che aprire o riaprire, in questo caso quando possibile, un ospedale non debba essere soggetto all'approvazione della politica. Dei medici sovversivi, lo sai che anche in Italia succede un pochettino la stessa cosa, chi fa la medicina per la medicina, la medicina che non vuole perseguire solo il profitto ma che persegue il benessere del paziente, almeno il cercare di non nuocere al paziente, perché così ci hanno insegnato, almeno non nuocere diventa sovversivo, questo l'hai notato anche tu in Italia. Sì, siamo in una situazione che io non definirei una società, una comunità, una collettività, è una situazione in cui i rapporti tra le persone, tra i gruppi di persone che vivono nello stesso territorio, assomigliano sempre più a dei rapporti da giungla e questo è molto preoccupante. La medicina non può essere soggetta al profitto, non può non solo perché non è etico, non è giusto, ma non può neanche per una ragione scientifica, perché la medicina non può svilupparsi all'interno di una logica del profitto, la ricerca scientifica non può svilupparsi all'interno di una logica del profitto, nel caso della medicina, poi la medicina privata introduce il più straordinario conflitto di interessi che io conosca, da un punto di vista anche culturale. Voglio dire che se io medico guadagno proporzionalmente a quante prestazioni fornisco, a quanti servizi erogo, cioè con la logica da azienda, infatti oggi da noi si chiamano aziende ospedaliere. Ecco, se il mio guadagno è proporzionale a questo, adesso il mio interesse non è più che la gente stia bene, è che la gente stia male. Ed è quello che succede. Si cerca ovviamente di nasconderlo ai cittadini, in molti casi ci si riesce, ma quello che succede è che si sta facendo profitto, cioè qualcuno sta guadagnando a scapito della salute dei cittadini. E queste cose vengono chiamate spese sanitarie. Io per spese sanitarie mi immagino, mi immaginerei una spesa che tende a migliorare il livello di salute di una popolazione o di una persona, non a migliorare i conti in banca delle varie aziende e del settore. La medicina deve essere, come dire, una scienza messa lì e costruita perché possa curare le persone, semplicemente perché è giusto curare le persone, semplicemente perché tocca a tutti. È una delle pochissime cose che ci unificano, insomma, al di là delle differenze ideologiche, religiose, politiche, di quanto siamo alti e di quanto siamo belli, e in una certa misura anche di quanto siamo ricchi e di quanto siamo poveri. Anche se i poveri ovviamente si ammalano di più e muoiono di più. Ma insomma, anche lì, o bene o male, c'è questo elemento unificante. Avremo bisogno di cure mediche. E allora, visto che ne avremo bisogno tutti, cosa c'è di più semplice concettualmente che cercare di farle bene, gratuitamente e per tutti? Voi, in quello splendido progetto che avete attuato e che avete inaugurato in maggio di quest'anno in Sudan, che è secondo me uno splendido progetto dal punto di vista medico, in prima istanza perché è un ospedale bellissimo, ho avuto modo di, non di vederlo di persona, ma di vedere i vostri filmati sul vostro sito, che consiglio poi a tutti di andare a vedere perché è veramente bello quel filmato, si vede già che tipo di ospedale è, dal punto di vista umanitario, ma io l'ho trovata anche dal punto di vista politico. Finalmente la cooperazione arriva in Africa, la cooperazione in ambito sanitario, arriva in Africa non portando l'ospedaletto, il dispensario, che poi è sempre a pagamento, questa è la mia esperienza in Africa, e finalmente arriva una buona medicina per tutti, gratuitamente. Io mi domando come ci siete riusciti. La vostra potenza, il vostro carisma, la grande forza di emergency, non lo so. Non lo so come ci siete riusciti, so che è stata dura. È stata dura e è ancora dura e impegnativa, anche perché è un centro come il centro salami di cardiochirurgia, è un centro che comunque ha dei costi elevati. E però è un centro di eccellenza. E io credo che sia indispensabile portare l'eccellenza. Quando nella storia della medicina, la medicina è uscita da una fase un po' empirica, un po' così, insomma, addirittura magica, gli albori. Ricordo che ancora 300 anni fa c'era la corporazione dei barbieri e dei chirurghi. C'erano due cose che venivano associate, si pensava fosse la stessa cosa. Ecco, da quando si è usciti un po' da quella fase lì, si sono costruiti ospedali. Non si sono costruite clinichette sotto una capanna o sotto un telone, con quattro farmaci scaduti e le sirinche di vetro non sterili. E poi da lì, piano piano, ci si è sviluppati, 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 fino ad arrivare a un ospedale di cardiochirurgia. Il processo è sempre stato dall'alto in basso, dall'eccellenza verso le ricadute dell'eccellenza. Faccio un esempio molto semplice. Il nostro centro a Cartum è stato aperto a maggio. Sono passati soltanto due mesi e abbiamo incominciato, su sollecitazione loro, tra l'altro, a discutere con le autorità di Cartum su come organizzare una raccolta di tutti i rifiuti infetti che riguardi tutti gli ospedali di Cartum. Io sono sicuro che tra un anno o due anni le condizioni igieniche di tutti gli altri ospedali intorno al Salam Center saranno cambiate. Sono sicuro che miglioreranno, come dire, non solo i criteri di igiene all'interno degli ospedali, ma che miglioreranno anche le diagnosi, migliorerà soprattutto la cura per il paziente. E spero che migliori anche, è un'altra cosa, la gratuità delle cure. Per ora, nella maggior parte degli ospedali sudanesi, si paga il biglietto per entrare, come fosse un cinema. Anche per andare a visitare i propri malati, i propri congiunti. Anche in seguito alle discussioni, alle conversazioni, al conoscerci, insomma, con il governatore di Cartum, il governatore, da quest'anno, ha reso gratuiti tutti i servizi pediatrici fino a 14 anni. È un piccolo passo. È un biracolo. È un piccolo passo, ma bisogna lavorare in quella direzione e lavorare insieme con loro. Io penso che questa sia la strada giusta. Tra l'altro, a fianco all'ospedale di Cartum, insomma, sempre nel Sudan, avete aperto anche un centro pediatrico in un campo profughi, se non sbaglio, no? Un centro di traumatologia nel sud, mi pare, nel Darfur. No, quello era in Darfur. In Darfur, eh. In Fashir. Sì, anzi, l'intervento in Darfur è stato il primo intervento di emergency in Sudan. E poi è seguito, come dire, il centro pediatrico di Maio e nel frattempo si stava costruendo il centro salam di cardiochirurgia. Ecco, questo anche per rispondere un po' all'arriciamento di naso che alcuni soloni e professori hanno, come la cardiochirurgia in Africa, dove si muore di malaria, di diarrea, di tubercolosi, di AIDS. di epatite. Mettere in contraddizione queste due cose, io la trovo un'operazione culturalmente ignobile. Perché, insomma, con quale arroganza ci riconosciamo il diritto di decidere fino a che livello di cure o di complessità di cure hanno diritto gli africani? Noi ci siamo occupati di diarrea, ce ne occupiamo ancora. Però credo che, insomma, un bambino con la diarrea ci ha diretto di vivere quanto ci ha diretto di vivere un bambino con la teatralogia di Fallot. Si può occupare anche tranquillamente di tunga, voglio dire, però in maniera dignitosa. Il guaio è che la cosa viene sempre posta in termini di priorità, nel senso di quanto costa curare un bambino con la diarrea, certamente molto meno che operarla al cuore. Però tutto questo ragionamento ha una validità fino a quando io ho assunto un valore come valore primario, cioè il danaro disponibile, e poi gli altri come conseguenze di quanto è l'ammontare del valore primario. E se provassimo invece a ribaltare la cosa e a dire che tutti hanno diritto a questo, 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 questo e adesso troviamo tutti i soldi che servono, tutti insieme, ciascuno mettendoci il suo pezzettino, insomma, mi pare molto più logico. Adesso faccio un piccolo attacco, mi si è concesso, alla cooperazione internazionale, nella quale sono entrata con la nostra organizzazione medica. Io ho avuto un pochettino il sentore che questa, sinora, la cooperazione internazionale, per questo mi esalta tanto il vostro progetto, sia stata un'espressione di assistenzialismo, buonismo, colonialismo, in ultima istanza, no? E con delle enormi difficoltà da parte dei medici che hanno tentato di lavorare. Io parlo del continente africano perché è quello che conosco meglio. Tu cosa ne pensi? Un po' azzardata questa cosa è un'ingiuria oppure no? No, non credo sia un'ingiuria, non credo che sia, come dire, neanche possibile fare una diagnosi precisa. Certamente entrano tutti questi elementi che tu hai detto. Ce ne possiamo aggiungere anche altri. L'assenza di professionalità, per esempio. non voglio arrivare, come dire, a parlare di tutti quei casi che, peraltro, non sono sporadici, insomma, di compromissione politica o addirittura militare della cooperazione internazionale. Cosa che oggi è drammatica. Oggi nei paesi in guerra di solito si interviene e non si guarda più in faccia a nessuno, non ci si preoccupa di consentire aiuti umanitari anche durante la fase attiva del conflitto. Chi lo fa, lo fa a suo rischio e pericolo. Poi finita la fase acuta quando lo decidono i militari, insomma, che la fase acuta è finita, di solito si sbagliano, perché, insomma, hanno il cervello dei militari. Ma quando lo decidono, allora chiamano le organizzioni umanitarie e gli stessi che hanno tirato le bombe sono disposti anche a darti i soldi per fare un po' di ricostruzione. Così almeno si ricostruisce un po' e poi dopo questo, vabbè, verrà tirato giù delle bombe successive. Ecco, il prestarsi dell'organizzazione umanitaria a questa operazione di, come dire, di imbellimento della guerra, io lo trovo un crimine assoluto e è quello che purtroppo stiamo vedendo troppo spesso. Al di là di questo, credo che uno dei fattori condizionanti è la scarsa qualità dei progetti. Un fattore che ho riscontrato, pressoché uniformemente, sia l'assenza di motivazione da parte dello staff internazionale, cioè di chi è lì. Se si va a fare la domanda ma tu perché fai questo mestiere la maggior parte delle persone che lavorano, soprattutto per le grandi organizzazioni, insomma, ebbè, la risposta standard è che è un buon posto di lavoro. Un buon posto di lavoro. Ora, quando, come dire, cooperante, non so se si usa ancora questa parola, guadagna 150-200 mila euro l'anno, insomma, io faccio anche qualche fatica ad aggiungerci l'aggettivo umanitario. Ecco, in fondo, insomma, se si facesse un'inserzione sul Corriere della Sera, offresi posto di lavoro, stipendio, euro 12 mila mensili, più benefits, ci sarebbero decine di miliardi di domande. Credo che, però, un po' tutti questi fattori condizionano questo mondo e che non è un mondo indipendente, che è un mondo dipendente assolutamente dalla politica e dalle scelte della politica che di solito, insomma, non hanno la sanità delle persone come loro priorità. Quale dovrebbe essere la motivazione per un medico per quando decide di partire per un paese del cosiddetto sud del mondo? Cioè, geograficamente del sud del mondo? Comunque un paese in difficoltà dal punto di vista sanitario. Penso che bisogna crederci, bisogna crederci che si sta facendo una cosa giusta. Però bisogna anche trovare un ambiente dove ti si consenta di lavorare in un modo professionale ed efficace. non ha davvero senso andare a costruire medicina a terzo mondo. E anche qui i limiti della cooperazione internazionale sono devastanti. c'è una struttura in Sudan nel famoso avamposto 55 forse molti italiani se lo ricorderanno perché fu associato addirittura a donazioni del festival di Sanremo costruito a Niala da Barbara Contini un altro di queste meteore politicamente sponsorizzate che fanno incursioni nella cooperazione. Io ho visto come molti altri un reportage televisivo su questo centro dove la sala operatoria ha una porta che si apre sul giardino e dove una persona dello staff italiano intervistata il giornalista che chiede ma scusa la sala operatoria si apre sul giardino e risponde candidamente pensa siamo in Africa e questo è un discorso ricordato questo direi che è un esempio più tipico di mancanza di motivazione è un po' come mandare i farmaci o i prodotti paramedicali scaduti come fare quello che abbiamo visto fare più di vent'anni fa ormai in Somalia dove si davano le pastiglie per togliere l'appetito a chi aveva fame oppure mandare gli antidepressivi in Africa o gli anticolesterolemici questo è il massimo o paracaduttare le scarpe con lo spillo ai kurdi che scappavano sulle montagne due anni fa tu mi dicesti quando io partì per il Burundi come puoi pensare di andare a lavorare in quella situazione e con quelle persone lavoravamo c'eravamo accodati a una congregazione religiosa del posto con tanta amarezza ti devo dire che dopo due anni noi abbiamo dovuto abbandonare ti ho pensato miliardi di volte credimi e avevi ragione avevi ragione perché io mi sono ritrovata a non poter curare delle meningiti con dei farmaci che mi ero portata io mi sono ritrovata a non poter togliere nemmeno delle tunga cioè voglio dire che è la cosa più semplice di questo mondo che fanno le donne per la strada ecco quindi è un'ennesima conferma del fatto che è molto importante per noi medici cercare di tenere presente le esperienze di chi insomma di chi in qualche modo le ha accumulati in una maniera seria mi spiace che tu mi dica che avevo ragione però purtroppo come dire la voglia di essere utile io dopo è scontato che anche insomma queste congregazioni soprattutto quelle come dire che hanno una spinta religiosa la voglia ce l'abbiano sinceramente ecco però la voglia di essere utili insomma non basta per poi essere utili davvero serve ma servono anche altre cose insomma se se la ricetta non è non è seguita no e si dimentica il sale poi insomma non viene fuori una grande pasta asciutta soprattutto se si persevera nel fare pagare la medicina perché insomma ovviamente ecco ma vedi questa per esempio è una tendenza degli ultimi dieci anni anche questa è stata mascherata con i soliti paroloni che usa il politichese dell'umanitario no sostenibilità sostenibilità cosa vuol dire sostenibilità ma perché pensiamo che la sostenibilità dipenda solo dai soldi perché la sostenibilità dei progetti sanitari per esempio oggi si traduce nell'impostare ospedali o cliniche sul principio del cost recovery cioè la struttura che fornisce un servizio sanitario deve recuperare i costi sostanzialmente deve pagare il malato ma chi ha detto che la sostenibilità stia in questo e che la sostenibilità non stia invece sull'avere medici infermieri ma anche guardie persone delle pulizie perché poi in un ospedale contano tutti è un team che funziona avere queste persone che ci credono veramente nel senso nel profondo senso sociale e anche nella soddisfazione personale di fare quello che fanno non è forse questo un elemento molto più sostenibile che non far pagare il ticket eppure le organizzazioni umanitarie così insomma si scaricano anche un po' di costi tendono ad andare in questa direzione questo io lo trovo assolutamente assurdo questo sta succedendo anche in Italia scusa se lo ribadisco ma mi sembra di essere all'interno di una guerra anche in Italia in ambito sanitario perché è una guerra è una guerra contro i cittadini quella di di rendere l'essenza sanitaria una merce a pagamento è una guerra non c'è il minimo dubbio su questo non trovi che vi sia anche una sorta di lobby medica che esclude coloro che invece cercano ancora di crederci in questo mestiere perché questo è un mestiere non per paraculi insomma bisogna avere un pochettino di coraggio voglio dire insomma i medici non hanno certo brillato per capacità di reazione a queste cose anzi direi che una buona fetta si sono poi trovati molto contenti che che la vicenda pigliasse questa piega perché è stata l'occasione per guadagnare un sacco di soldi insomma però c'è ancora c'è ancora voglia credo la sanità italiana la sanità pubblica italiana che è l'unica sanità che c'è in Italia il resto è una truffa è una sanità che resta di buon livello forse anche di ottimo livello nonostante le politiche sanitarie cioè non grazie a ma proprio nonostante nel senso che c'è ancora molte persone anche medici soprattutto tanti infermieri che credono ancora in quello che fanno e che continuano a lavorare duro a sgobbare duro nonostante li stiano smantellando intorno l'ospedale e trasformandolo in un'azienda che alla fine produrrà spot pubblicitari insomma parliamo un pochettino della situazione in Afghanistan tu ci sei tornato ovviamente ultimamente come siamo messi perché il sistema mediatico insomma dal sistema mediatico passa che insomma lì praticamente è tutto finito sono tutti a posto le donne non portano più il burka siamo tutti a posto abbiamo esportato a democrazia i talebani sono là vicino al Pakistan chi si è visto si è visto no com'è la storia sono assolute stupidaggini i talebani intanto per cominciare sono a circa 40 km da Kabul e da Kabul si sentono anche i botti la situazione militare è sempre più complessa il rischio di una gravissima catastrofe umanitaria l'anno prossimo direi che è elevatissimo e d'altra parte credo che insomma non sentiremo le armi tacere per così dire in Afghanistan fino a quando l'Afghanistan sarà sottoposto a un'occupazione militare straniera non è mai successo in nessun altro paese insomma cosa ne pensi del fatto che in agosto il presidente Karzai abbia incontrato il presidente Bush a Camp David per affrontare questa lotta contro il terrorismo per la ricostruzione dell'Afghanistan contro la contro la droga insomma la coltivazione dell'oppio cosa ne pensi è una roba vera che ha delle fondamenta oppure così è una questione politica sicuriamoci perché ci passano queste robe qua la droga la produzione di oppi in Afghanistan e poi il processo successivo insomma è molto aumentata dopo la fine del regime dei talebani chi dice di tre volte chi dice di otto volte ma poi non si saprà mai esattamente ma tutti concordano sul fatto che sia molto aumentata ora tutti questi programmi di come dire lotta alla droga niente a chiedersi come mai gli agenti governativi non vadano mai a distruggere i campi quando le piante sono ancora giovincelle come mai ci vanno solo quando è tempo di raccogliere insomma se si aggiunge a questo il fatto che si sente dire in Afghanistan ma siccome lo dicono tutti qualcosa di vero ci sarà il più grande trafficante di droga dell'Afghanistan nel fratello del presidente beh allora probabilmente si ingiustifica capisce anche il comportamento delle forze di polizia che vanno sostanzialmente a fare un raccolto militare non vanno a fare la lotta alla droga ecco questa è un'altra delle tragedie tra l'altro mi sembra di avere capito dalle varie testate che ho letto che adesso ci sono anche le raffinerie fino a qualche anno fa esportavano esportavano l'oppio grezzo adesso in Iran su questo no io non lo so perché insomma non ho tempo di occuparmi di queste cose ma darei per certo che ci sono si guadagna un po' di più insomma se non altro credo no dunque volevo sapere se si sono ricuciti ma mi hai già risposto i rapporti con le autorità afghane insomma ma ricuciti forse è una parola un po' esagerata diciamo che il governo Carzai ha dovuto far buon miso a cattivo gioco e smettere di ostacolare il rientro di emergenze nel paese se questa se questo atteggiamento durerà non speriamo tra l'altro potrebbe anche non durare magari la prossima volta non è emergenze che se ne vada l'Afghanistan insomma mi pare che il governo Carzai sia uno dei più traballanti al mondo insomma speriamo che ci lasciano fare in pace il loro nostro lavoro cosa ne pensi della visita del presidente iraniano a Kabul guarda non mi occupo più di queste cose non ne sono mai occupato molto ma ormai poi quest'anno soprattutto sono stato un po' preso un po' preso io ti ringrazio moltissimo ti faccio tantissimi auguri e grazie per gli insegnamenti che ci stai dando a tutti noi gli insegnamenti è un po' esagerato noi facciamo cose normali il problema è che viviamo in un mondo capovolto allora le cose normali sembrano straordinarie ma credo che un medico debba semplicemente curare cercare di curare le persone così come penso che un pompiere debba cercare di spegnere gli incendi qui invece viviamo nel mondo in cui gli incendi si appiccano questo è il problema il problema è che se tu tenti di curare le persone sai cosa diventi? un sovversivo perché ti hanno dato del sovversivo a te mi hanno dato della sovversiva a me anche se io ero in Italia soltanto perché curavo in agricola G perché la gente è molto carina e gli islamici ma io credo che no è giusto curare tutti credo che lo dobbiamo fare assolutamente giusto al di là di ogni dichiarazione anche se non ci fosse nessuna dichiarazione universale dei diritti umani è e resta giusto quindi possiamo continuare a farlo dobbiamo continuare a farlo allora con la tua voce autorevole io mi permetto di continuare a farlo sovversiva grazie 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 a tutti